Saranno quattro popolari scrittrici del panorama letterario e dello spettacolo a dare via alla decima edizione di Passaggi Festival. La manifestazione partirà sabato 18 giugno dalla piazza di San Costanzo con la rassegna di narrativa Extra Passaggi per poi tornare a Fano dal 20 al 26 giugno con oltre 200 ospiti e più di 140 appuntamenti. Abbiamo scelto San Costanzo perché è uno dei comuni dei castelli vicino alla nostra città di grande qualità da un punto di vista urbanistico, urbano e anche da un punto di vista amministrativo. Quindi è stata la prima scelta per valorizzare questi dieci anni di attività di Passaggi Festival. Le novità non sono solo la presenza di San Costanzo, ce ne sono anche altre. Abbiamo una media di 15 manifestazioni al giorno dal 18 fino al 26. e quindi tutto questo diciamo ci mette nelle condizioni di pensare positivamente anche per il futuro visto che Passaggi Festival è nato a Fano ma noi abbiamo l'intenzione di diventare un po' il festival di tutto il territorio e di tutta l'area vasta della provincia di Pesurubino. Sapete anche che stiamo collaborando anche con la Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro perché siamo convinti di una cosa, che più manifestazioni di qualità ci sono e diciamo più viene valorizzato il territorio. Non è concorrenza, anzi questa dimostra fino in fondo la capacità degli amministratori, delle persone che pensano alla valorizzazione attraverso la cultura di questo territorio e quindi è una strada che noi vorremmo perseguire anche nei prossimi anni. Particolarmente grato ed emozionato il sindaco Filippo Sorcinelli che ha ringraziato gli organizzatori di Passaggi e il Comune di Fano per aver permesso al Borgo di San Costanzo di essere al centro dell'attenzione nazionale con una proposta culturale di altissimo livello. Non potevamo partire meglio con questo allargamento di passaggi festi che va anche verso l'entroterra, in questo caso San Costanzo perché Andrea De Logu porterà il proprio primo romanzo che si intitola Contrappasso, Veronica Pivetti la stessa sera di sabato ma alle 21.15, Tequila Bang Bang, un giallo messicano, domenica invece Iva Zanichi arriverà con un romanzo, non con una sua biografia che si intitola Un altro giorno verrà, chiude in bellezza questa rassegna Catena Fiorello con i cannoli di Marites, le signore di Montepepe. San Costanzo è pronta, i nostri sancostanzesi sono pronti ad ospettare le tantissime persone che vorranno venire a San Costanzo in questo weekend così importante e vi aspettiamo tutti a San Costanzo sabato 18 e domenica 19 giugno.